Teodoro presenterete nel prossimo consiglio un importante delibera per quanto riguarda gli esercizi commerciali che aiutano le persone bisognose e voi proponete uno sconto sul pagamento della Tari. Le attività commerciali che vorranno partecipare potranno avere un beneficio fino a 200 euro annui di agevolazioni sui costi della Tari. Questo a fronte di quale servizio? A fronte di un servizio da dare in collaborazione con le associazioni umanitarie, associazioni che sono presenti sul territorio che aiutano le famiglie più bisognose. Abbiamo messo in piedi un progetto che al Comune ha un costo pari a zero, ricadente per ogni cittadino parliamo all'incirca di un centesimo, ma sicuramente questo progetto potrà aiutare, qualcuno ha ipotizzato fino a 5.000 famiglie, ma nella obiettività vera, col risultato vero parliamo di 1.500-2.000 famiglie bisognose nella nostra città. Consigliere Pignoli, il vostro auspicio è che questa delibera possa avere il consenso unanime dell'Aula? Quando ci sono queste delibere poi la politica deve fare un passo indietro e deve invece farne 10 avanti il sociale, per cui spero e penso, ma sono sicuro, che tutta l'Aula, a prescindere dalla maggioranza o posizione destra, sinistra, centro, possa accogliere favorevolmente questa iniziativa. Iniziativa che ha un padrino particolare? Sì, io e il collega Teodoro abbiamo voluto che questa delibera fosse battezzata da Gianfranco Sembroni, noto conduttore sportivo di una locale emittente, perché anche all'interno dello sport lui spesso, anzi, parla sempre di sociale. Per cui l'ho invitato ieri sera, proprio ieri pomeriggio, proprio in ultimo. Lui prontamente è intervenuto qui e ci ha onorato dalla sua presenza e lo ringraziamo pubblicamente. Gianfranco Sembroni, importante essere sempre al fianco degli ultimi, anche perché gli ultimi dati dell'Istat dicono che purtroppo anche in Abruzzo aumenta il numero dei nuovi poveri. Mi auguro vivamente che questa delibera possa andare avanti nel vero senso della parola e che possa essere utile a tante persone che hanno tanto bisogno.